Esco, una tua buona partita oggi, sei entrato in campo e hai dato un buon contributo alla vittoria della squadra. Sì, per me è sempre uguale, quando entrare a campo voglio aiutare la squadra molto e faccio quello che posso fare per vincere. Questa tua esperienza in Italia ti soddisfa? Sei contento fino a questo momento? Sì, molto contento, la squadra è tutto posto e sì, mi piace l'Italia molto. Sei il primo giocatore israeliano che gioca in Italia oppure c'è stata qualcuna precedenza? Ancora non ho… Il primo giocatore israeliano che gioca in Italia? Secondo me sì. Un orgoglio? Sì, 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 molto scontento e carico per giocare qua e… Ok, grazie. 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 Grazie.